Focus. Riduzione delle autorità d'ambito per la gestione rifiuti da 8 a 4, creazione delle conferenze d'ambito provinciali e assegnazione alle province delle competenze di gestione dei servizi, tariffazione, programmazione e organizzazione. Queste le principali novità introdotte dalla legge disposizione in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, approvata il 22 maggio dal Consiglio regionale. Il DDL 129 che ha visto la luce nei lavori di aula di oggi, un DDL che parte da lontano, lavori importanti durante la quinta commissione e contributi ancora più importanti nei lavori di aula. Un DDL che darà maggiore efficienza al sistema e un sistema nel quale verranno coinvolte le amministrazioni territoriali delle province e dei comuni con un deciso risparmio da parte dei cittadini. Avremmo preferito un testo di legge che definisse in modo puntuale le competenze dei comuni e delle province. Non è stato così, la Giunta e la maggioranza hanno scelto di realizzare la gestione attraverso le conferenze d'ambito. La nostra sensazione è che questa legge rischi di nascere vecchia alla luce delle modifiche nazionali, ma verificheremo nel merito l'attuazione nei prossimi mesi.